Per configurare la firma remota su Netflix bisogna andare su Studio, Configurazione, Firma remota, Elenco certificati e verificare che il certificato sia attivo. Fatto questo andare sempre su Studio, Configurazione, Firma remota, Firma remota di nuovo e premere in alto a destra su Configura firma remota. Inserire il proprio codice fiscale e il PIN creato in fase di configurazione. Mettere la spunta su Attiva e Confermare. Per provare la firma remota basta andare in Utilità, Documenti, selezionare un documento a caso non firmato e premere Firma. Bisognerà premere il tastino Genere OTP, arriverà un SMS sul vostro telefonino, sul numero che avete configurato e con quello si può firmare il file.